...prestigioso, con una storia alle spalle così importante. Spero riusciremo ad ampliare ancora di più questo progetto così ambizioso. Per questo ringraziamo la senatrice Valongo per la fiducia affidataci e per la stima che ci ha mostrato. L'organo tecnico è curato da Mister Rotondo, allenatore che ha fatto la storia nel nostro territorio. La squadra sarà composta per la maggior parte da ragazzi di tutte le frazioni, in quanto da anni i nostri talenti erano sparsi tra le varie squadre della provincia e finalmente siamo riusciti ad unire in un'unica forza tutto il potenziale del territorio. Le polemiche non ci interessano, pensiamo solo a fare il nostro percorso senza farci distrarre e soprattutto a far divertire i nostri ragazzi. ... ...